C'è un governo italiano con cui noi stiamo lavorando senza alcun problema, per il momento la ministra Pinotti era presente, oggi ha espresso la posizione italiana, gli italiani hanno votato, tutti lo hanno potuto notare e si chiama democrazia, ci sarà un nuovo governo per il futuro, per il momento lavoriamo con il governo in carica, per il prossimo vedremo quando avremo il prossimo, nel frattempo siamo fiduciosi nella saggezza del Presidente della Repubblica Italiana, che dovrà naturalmente prendersi il tempo necessario, conoscendo il Parlamento italiano, so che ci sono delle procedure da seguire all'interno delle Camere per cui bisogna aspettare, quindi lavoriamo con il governo in carica, per il futuro si vedrà.